Barbara D'Urso riceve un regalo personalizzato da un paio di settimane Barbara D'Urso è ufficialmente in vacanza. Qualche giorno fa Lady Cologno ha fatto una breve escursione a Venezia insieme ad amici. Una gita in barca che ha scatenato una serie di polemiche. Il motivo. In tutte le foto e clip che ha condiviso su Instagram non ha mai rispettato la distanza fisica e indossava la mascherina.in attesa. Di vederla di nuovo sul piccolo schermo coi suoi programmi, pomeriggio 5, live non è ladurso e domenica live, Carmelita attraverso delle stories su IG ha fatto vedere un regalo personalizzato che ha ricevuto di recente. Si tratta di una borsa di velluto rosso che lei considera chicchissima visto che è unico prototipo. Carmelita mostra con orgoglio una borsa con la scritta live non è ladurso dopo una breve vacanza nella laguna veneziana Barbara D'Urso è tornata a Cologno Monzese. Infatti, qualche giorno fa la professionista napoletana ha postato uno scatto che la mostra sopra i tetti della sede Mediaset. A quanto pare sta lavorando per realizzare il promo per la prossima stagione. televisiva che partirà a settembre. Successivamente Carmelita si è dedicata moltissimo al giardinaggio, prendendosi cura delle piante ed ortaggi che ha nel suo orticello. Ovviamente la donna ha documentato il tutto con una serie di stories su Instagram. Ma tornando al regalo personalizzato ricevuto, Barbarella lo ha mostrato con orgoglio sui suoi canali social. Si tratta di una borsa in velluto rosso, realizzata da un certo Bruno, in numero limitato visto che esiste solo quella, come ha spiegato la stessa professionista partenopea. Continua dopo le foto. Di due Barbara D'Urso felice per il dono ricevuto a corredo delle stories su Instagram nella quale mostra la sua borsa personalizzata, Barbara D'Urso ha scritto. La seguente didascalia. Guardate che meraviglia, la meraviglia di questa borsa enorme, di velluto rosso, unica e unico prototipo. Guardate la sciccheria anche la stag, guardate, vi prego è spettacolare, si tratta di un accessorio in cui c'è la scritta dorata non è la D'Urso, nome del suo talk, con i manici fatti a catenelle in metallo dorato e un ciondolo sempre colore oro in metallo a forma di a stag. Nel clip Carmelita mostra fiera la borsa scrivendo. Fatta apposta per Grazie a tutti. Grazie a tutti.